Sono qui a Siderno per parole guerriere sulla strada. È un momento di incontro sui territori, appunto sulla strada, per rinsaldare gli animi e i cuori perché la campagna sarà molto dura, molto tosta, riceveremo grossi attacchi. Prossimamente poi saremo in tutta la Calabria per incontri con le associazioni, i comitati, gli imprenditori sul programma del Governo 5 Stelle. Con Luigi Di Maio e il nostro candidato Premier siamo pronti a dare una squadra solida al Governo dell'Italia e dunque è necessario serrare i ranghi ed essere più forti che mai. Il Movimento 5 Stelle ha sempre dato prova di vicinanza ai cittadini per il bene comune, facendo battaglie importanti per i diritti essenziali che ancora ci sono negati nella nostra regione. Il diritto alla salute e quindi ad una sanità dignitosa, alla mobilità ma anche sostegno agli imprenditori onesti e che fanno innovazione e che cercano di resistere a questa crisi indotta che ovviamente indebolisce le fasce più deboli della popolazione alla quale noi abbiamo pensato con il nostro primo punto del Governo che è il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è stato denigrato da più parti perché libererebbe le persone dal voto clientelare che è una dinamica perversa che insiste sui nostri territori. Noi prevediamo i 780 euro per chi non ce la fa ad andare avanti, un sostegno minimo che ti dà la possibilità nel frattempo di scegliere fino a tre proposte di lavoro da parte dello Stato e solo in quel caso non scegliendo una di queste proposte ti verrebbe tolto il sussidio. Quindi niente di assistenziale ma un sostegno, un reddito minimo di dignità a chi è rimasto indietro.